Buonasera e benvenuti a Smart City. Abbiamo visto la mancanza dell'elettricità. Abbiamo qui con noi la dottoressa Fulvia Fazio, responsabile Smart Grids, dopo ci spiegherà di cosa si tratta, e nuove tecnologie di Enel Distribuzione, e Barbara Covilli, amministratore delega di Click Utility on Earth, esperta di mobilità sostenibile. Barbara ha organizzato da molti anni diversi convegni, eventi, i maggiori eventi sulla mobilità, un po' in tutta Italia. Siamo qui a parlare di autoelettrica, che è un tassello fondamentale, direi, della Smart City, perché inquina di meno. La nuova visione dell'economia